BELENICE Dicebant mi sodales, si sepultrum amice visitarem, curas meas aliquantum for elevatas. Molteplice la miseria, e la sventura sulla terra è multiforme, dominando l'ampio orizzonte come l'arcobaleno, come quello è di colori diversi e distinti, eppure tra loro intimamente fusi, come l'arcobaleno dominando l'ampio orizzonte. Così, da un esempio di bellezza, avrai tratto un tipo di bruttura, dal simbolo della pace una similitudine del dolore, ma allo stesso modo che nell'etica il male è una conseguenza del bene, nella realtà è dalla gioia che nasce il dolore. O la memoria della felicità passata forma l'angoscia del presente, o le agonie esistenti originano l'estasi che avrebbero potuto esistere. Il mio nome di battesimo è Egeus, quello di famiglia lo tacerò. Non vè castello più ricco di gloria, o vecchio danni, della malinconica ed antica dimora dei miei padri. La nostra famiglia passava per una razza di visionari, e certo in molti rilevanti particolari. Nel carattere della casa, negli affreschi del salone principale, nelle tappezzerie delle camere da letto, nei lavori di intarsio di alcuni sostegni della sala d'armi, ma in specie nella galleria degli antichi dipinti, nella biblioteca e nella natura tutta speciale degli oggetti contenuti in questa, c'è più di quanto occorra per giustificare una così fatta credenza. I ricordi dei miei primi anni sono intimamente legati a quella sala, ai suoi volumi, dei quali non dirò nulla di più. È là che morì mia madre, è là che nacque io stesso. Ma è del tutto ozioso affermare che non ho già vissuto un'altra vita, che la mia anima non ha avuto un'esistenza anteriore. Lo negate? Bene, ma non c'è da discutere su una simile materia. Convinto io, non cerco di convincere. Vi sono ad ogni modo dei ricordi di aeree e forme, di parlanti occhi spirituali, di melodiosi e mesti suoni, suoni che non si lasceranno cancellare. Memorie come ombre, vaghe, variabili, infinite, non ferme, come un'ombra di cui mi sarà impossibile liberarmi finché risplenderà luce nella mia ragione. In quella camera sono nato, vestandomi dalla lunga notte di ciò che pareva, ma non era la nostra esistenza, per trovarmi d'un tratto in un paese fatato, in un palazzo di fantasia, negli strani domini del pensiero e dell'erudizione monastica. Non è molto singolare che mi sia guardato attorno con occhio spaventato e ardente, e poi abbia logorato la mia infanzia sui libri e consumato nei sogni la mia giovinezza. Ma è singolare che trascorsi quegli anni e nel fiore della virilità trovandomi ancora nella dimora dei miei padri, è singolare e straordinario come l'inanizione investì le sorgenti della mia vita come si operò una totale inversione nei miei più comuni pensieri. Le realtà del mondo mi impressionavano come visioni, e niente più che visioni, mentre le folli idee della regione dei sogni erano divenute più che la materia della mia esistenza quotidiana, la mia esistenza per se stessa, in assoluto. Berenice ed io eravamo cugini, e insieme sarei cresciuti nei miei saloni paterni, eppure crescemmo diversi, io cagionevoli di salute e sempre di mesto umore, lei agile, piena di grazia e rigogliosa di energia, a lei era dato scorazzare sui pendii della collina, per me non c'era che lo studio del chiostro, io senza vivere se non nell'intimo del mio cuore, dedito anima e corpo alla più intensa e macerante meditazione, lei spensieratamente errante per la vita, senza preoccuparsi se calavano le ombre sul suo cammino, o se le ore dalle ali di corvo volavano via silenziose. Berenice, io invoco il suo nome, Berenice, ed alle grigie rovine della memoria, mille ricordi si destano in tumulto al suono, o vivida è la sua immagine, ancora dinnanzi ai miei occhi, come nei sereni giorni della sua gioia e della sua felicità, o magnifica, eppure fantastica bellezza, o silfide, fra le prunaie di Arnheim, naiede tra le sue acque, e poi, poi non c'è altro che mistero, e terrore, ed ecco, una novella da non raccontarsi, un male, un male fatale, si abbatté come il simun su di lei, e mentre ancora la stavo guardando, lo spirito della trasformazione scorreva su di lei, e pervateva il suo essere, le sue abitudini, il suo carattere, e alterava, nel più sottile e tremendo dei modi, anche l'identità della sua persona, ahimè, il distruttore venne e andò, e la vittima, dov'era lei, io non la conoscevo, voglio dire non la conoscevo più, per Berenice, tra i mali numerosi che seguirono quel male primo e fatale, che operò un così orribile cambiamento nel morale, e nel fisico di mia cugina, è da ricordare come il più penoso e ostinato, una specie di epilessia, che non di rado terminava in uno stato di trance, perfettamente simile allo stato di morte, nel quale essa si riaveva talvolta di soprassalto, nel frattempo il mio male personale, che ho detto non chiamerò diversamente, cresceva con rapidità, e finì per prendere il carattere di una monomania di nuova e straordinaria forma, che acquistava di ora in ora, di momento in momento sempre più vigore, rafforzando su di me la più inesplicabile influenza. Questa monomania, se così devo definirla, consisteva in una irritabilità morbosa di quelle facoltà psichiche che la scienza chiama facoltà d'attenzione. E' probabile che non mi si capisca, o mi si capisca poco, e però io temo sul serio di trovarmi nell'assoluta impossibilità di dare alla media dei lettori un'idea esatta di questa nervosa intensità di interesse, grazie alla quale, nel mio caso, la capacità di riflettere, per non parlare in linguaggio tecnico, si fissava e approfondiva nella contemplazione dei più volgari oggetti della vita, meditare per lunghe ore indefesse, con l'attenzione tutta concentrata intorno a qualche puerile artificio circa il margine o la composizione tipografica di un libro, a stare interamente assorto la maggior parte del giorno per un'ombra bizzarra obliquemente proiettata sui damaschi polverosi, sul pavimento tarlato, perdermi per un'intera notte a fissare la fiamma palpitante di una lampada o gli orseggianti braci del camino, e per giorni e giorni fantasticare sul profumo dei fiori, ripetere con monotonia qualche banalissima parola e ripeterla tanto e tanto che il suono di essa finisce per non avere più un significato, perdere ogni sentimento di moto e di esistenza fisica in un ozio assoluto, ostinatamente protratto. Ecco alcune delle più comuni e delle meno dannose aberrazioni delle mie facoltà mentali, certamente non proprio eccezionali, ma che si sottraggono ad ogni spiegazione ed analisi. Non voglio essere compreso bene. La normale ardente attenzione morbosa che in tal modo eccitavano in me oggetti di futile natura non deve essere confusa con quella inclinazione per l'andar ruminando che è comune a tutto il genere umano e più specialmente alle persone dotate di immaginazione vivace. Non era come si potrebbe credere una condizione estrema, un'esagerazione di quella tendenza. Da essa anzi si distingueva per origine e per essenza assolutamente diversa. Nel primo caso il sognatore o esaltato che dir si voglia venendo ad ordinario interessato da un oggetto solitamente non di futile natura a poco a poco lo perde di vista attraverso un'immensità di deduzioni e di supposizioni che da quello scaturiscono sino a che giungendo alla conclusione di una giornata di sogno piena spesso di volutà egli trova vicinato a Mentum causa prima di tutte le sue divagazioni completamente svanito e dimenticato. Nel mio caso il punto di partenza era invariabilmente frivolo per quanto assumesse attraverso la mia fantasia alterata un'irreale importanza riflessa. Poche deduzioni facevo seppur facevo e quelle poche sempre ostinatamente volte a tornare sull'oggetto di partenza come su un centro. Le meditazioni non erano mai piacevoli e al dileguarsi delle chimere la causa prima di esse invece di essere svanita aveva raggiunto quell'interesse soprannaturale esagerato che era la caratteristica principale del mio male. In una parola le facoltà che più specialmente venivano eccitate in me erano quelle dell'attenzione mentre nel comune sognatore ad occhi aperti sono quelle speculative. A quell'epoca i miei libri se non irritavano il male direttamente partecipavano è facile capirlo nella maniera più ampia per la loro natura immaginaria e inconseguente a sviluppare le qualità caratteristiche. Tra gli altri ricordo bene il trattato del nobile italiano celius secundus curio de amplitudine beati regni dei il capolavoro di Sant'Agostino la città di Dio e quello di Tertuliano de carne Christi in cui paradossale pensiero mortus est dei filius credibile est qui a ineptum est et sepultus rexurexit certum est qui a impossibile est. Per più settimane assorbi tutto il mio tempo in inutili investigazioni laboriose. Così appare evidente che scossa nel suo equilibrio dalle più futili cose la mia ragione poteva benissimo essere paragonata a quella rupe di cui fa parola Ptolomeo e Festione la quale come una torre resisteva ad ogni umana violenza e al furore più terribile delle acque e dei venti e però tremava appena toccata dal fiore che si chiamava a sfodelo. A un filosofo superficiale potrà sembrare fuori di dubbio che la terribile alterazione prodottasi per la sua malattia nelle condizioni morali di Berenice fornisse non pochi oggetti di intensa meditazione alla mia mania di cui tanto difficile mi è stato spiegare la natura. Invece non era così e i lucidi intervalli della mia infermità la sua sventura è vero mi riempiva di pena e prendendo profondamente a cuore la totale rovina della sua bella e dolce esistenza non mancavo spesso di riflettere amaramente sul nodo misterioso per cui una così strana rivoluzione era avvenuta in lei. Ma queste riflessioni non partecipavano dell'idiosincrasia del mio male erano le stesse che in analoghe circostanze avrebbe fatto la media dell'umanità fedele alla propria natura la mia malattia si attaccava ai meno importanti ma più improvvisi mutamenti che si manifestavano nel fisico di Berenice voglio dire alla singolare spaventosa alterazione della sua identità personale. Nei giorni più radiosi dell'incomparabile sua bellezza io ero certissimo di non averla mai amata nella strana anomalia della mia esistenza posso affermare che i sentimenti non mi vennero mai dal cuore e che le passioni mi si accesero sempre nel cervello nel grigiore dell'alba attraverso i tralicci d'ombre della foresta nel pomeriggio e nel silenzio della mia biblioteca la sera essa mi era abbalenata dinnanzi agli occhi e io l'avevo vista non già quale berenice viva e col respiro sulle labbra ma come una berenice di sogno non un essere terrestre fatto di carne ma l'astrazione di tale essere non una cosa da ammirarsi ma da studiarsi in ogni sua parte non oggetto d'amore ma tema di astrusa e strampalata speculazione ed ora ecco che tremavo convulso dinnanzi a lei impallidivo al suo accostarsi eppure amaramente dolendomi della desolante condizione nella quale era caduta mi ricordai che mi aveva lungamente amato e in un cattivo momento mi parlai di matrimonio l'epoca fissata per le nostre nozze si avvicinava ed ecco un pomeriggio d'inverno una di quelle rare giornate calde di calma nebbia che sono dilette ad alcione io me ne stavo seduto e credevo d'essere solo nel gabinetto della biblioteca ma sollevati gli occhi vidi Berenice in piedi dinanzi a me era la mia immaginazione esaltata o l'effetto dell'atmosfera nebbiosa o la penombra incerta che regnava nella stanza o erano i drappi grigi che avviluppavano la sua persona a rendere così incerto e indefinito il suo profilo io non so dire non pronunciò una parola e io per tutto l'oro del mondo non le avrei rivolto una sillaba un brivido di accio mi corse la schiena una sensazione di insopportabile ansia mi opprimeva una curiosità divorante mi penetrava l'anima e abbattendomi sulla mia seggiola per qualche tempo rimaci senza respiro immobile sbarrando gli occhi su di lei ahimè la sua magrezza era estrema e nessun segno di ciò che era stata una volta appariva in qualche linea della sua figura il mio sguardo ardente cadde infine sul suo volto la fronte aveva alta pallidissima e singolarmente piena di calma e i capelli un tempo neri come l'ebano che le coprivano ombreggiandole le scarne tempie di innumerevoli anella adesso tendevano a un color biondo rossiccio la cui fantastica apparenza contrastava chiassosamente con la predominante mestizia di tutta la fisionomia privi di vita e di splendore i suoi occhi apparivano come senza pupille onde involontariamente distolsi lo sguardo ne quella vitrea fissità e lo portavi sulle sottili labbra contratte queste allora si aprirono e in un sorriso particolarmente significativo i denti della nuova berenice si rivelarono lentamente alla mia vista vuole se Dio che non li avessi mai veduti o che almeno vedutili fossi morto il rumore di una porta che si chiudeva mi scosse e guardandomi attorno vedi che mia cugina aveva lasciato la stanza ma dalla sconvolta stanza del mio cervello non se n'era andato ahimè e non se ne sarebbe andato il bianco spettro sinistro di quei denti non una screpolatura sulla loro superficie non un'ombra sul loro smalto non un intacco sul loro filo quel suo pur breve sorriso era bastato a fissarmene l'immagine nella memoria io li vedevo ora che lei se n'era andata anche più nitidamente di come li avevo visti in realtà quei denti quei denti erano in ogni dove visibili e palpabili dinanzi a me lunghi stretti straordinariamente bianchi con le pallide labbra contratte su di essi come al momento preciso della loro prima terribile rivelazione e la furia della mia monomania mi riprese e lottai in vano per sottrarmi al suo strano irresistibile influsso non avevo più un pensiero dinanzi agli innumerevoli oggetti del mondo esterno se non per quei denti per essi provavo un frenetico desiderio ogni altra materia di interesse scompariva assorbita da questa contemplazione particolare essi essi soli erano presenti al mio spirito e nella loro singola individualità divennero l'essenza della mia vita mentale io io li sospendevo ad ogni luce li consideravo in ogni aspetto studiavo le loro caratteristiche mi indugiavo sulla loro peculiarità riflettevo sulla loro conformazione meditavo sulle alterazioni della loro natura era brividivo all'idea che potessero essere dotati di un potere sensibile e di una facoltà di sentimento nonché pur privati delle labbra di una capacità d'espressione morale molto a proposito si era detto di mademoiselle sal che tu sepa etienne des sentiment e di berenice più seriamente io credevo che tu sedent etienne desider desider ecco l'idiota pensiero che mi annientava desider per questo era che l'idola travo tanto e sentivo che solo a possederli avrei potuto riacquistare la pace ritornare sulla via della ragione e la sera si chiuse su di me e le tenebre vennero soggiornarono e se ne andarono e un altro giorno spuntò e le ombre di una nuova notte si raccolsero e addensarono ancora ma io restavo seduto senza muovermi nella mia stanza solitaria seduto sepolto nella meditazione e il fantasma dei denti manteneva su di me la sua terribile influenza siccome nella più vivida e ripugnante nitidezza volteggiava nel variare delle ombre e delle luci dirrupa infine tra questi sogni un grido come di orrore spavento e adesso dopo una pausa tenne dietro un suono di voce afflitte miste di sordi lamenti per dolore ed affanno mi levai allora in piedi e spalancata una delle porte della biblioteca scorsi nell'anticamera una fante tutta in lacrime che mi narrò come verenice non fosse più colpita all'alba da un attacco di epilessia adesso che era scesa la sera la tomba aspettava la sua ospite e tutti i preparativi per il seppellimento erano fatti mi trovai di nuovo seduto nella mia biblioteca e solo mi pareva di essermi destato da un sogno confuso e conturbante sapevo che si era alla metà della notte e che verenice era stata enumata al calar del sole ma degli spaventosi momenti che erano seguiti non avevo nessuna reale nessuna deliberata persuasione avevo la memoria satura di orrore di un tanto più orribile orrore in quanto era vago di un terrore tanto più terribile in quanto era ambiguo una pagina spaventosa della mia esistenza era stata scritta con oscure e inintellegibili rimembranze di riprezzo ogni mio sforzo di decifrarla restò vano mentre ancora di tanto in tanto come lo spirito di un suono svanito l'urlo penetrante di una voce femminile sembrava mi risuonasse alle orecchie io avevo fatto qualcosa ma che me lo chiedevo ad alta voce e l'eco bisbigliante della sua stanza mi rispondeva che cosa sulla tavola accanto a me ardeva una lampada e vicino alla lampada c'era una piccola scatola non era di foggia molto notevole e io l'avevo già vista spesso prima d'allora siccome apparteneva al nostro medico di famiglia ma come si trovava là sulla mia tavola e perché rabbrividivo a guardarla certo erano cose cui non valeva la pena far caso e alla fine gli occhi mi caddero sulla pagina aperta di un libro e giusto sopra una frase in essa sottolineata erano le parole semplici e singolari del poeta Ebn Zayat dicebat mi sodales si sepulcrum amice visitarem curas meas aliquantum for elevatas o come mai mentre le scorrevo i capelli mi si rizzarono sul capo e il sangue mi si agghiacciò nelle vene ed ecco su di un lieve bussare alla porta della biblioteca e pallido come l'ospite di una tomba un famiglio si fece innanzi sulla punta dei piedi il suo sguardo era stravolto dal terrore e parlava con voce tremante rauca bassissima che disse udì delle frasi rotte narrò di un urlo selvaggio che aveva turbato il silenzio della notte di tutta la servitù raccolta si è messa si in ricerca nella direzione donde era venuto il grido e qui la sua voce fiocca si fece chiara e penetrante sussurrando di una tomba violata e un corpo spogliato del suo sudario esfigurato e che pur ancora respirava ancora palpitante ancora vivo indicò i miei abiti tutti sporchi di fango e di sangue senza parlare mi prese dolcemente per la mano nella quale c'erano impressi segni di unghie umane richiamò la mia attenzione su un oggetto posato contro il muro lo guardai un attimo era una vanga con un urlo allora balzai verso la tavola e afferrai la scatola posata su di essa ma non riuscì ad aprirla e come tremavo tutto mi scivolò dalle mani e pesantemente cadde a terra rompendosi in pezzi ed ecco da essa con un risonante strepito rotolarono fuori gli strumenti di chirurgia dentaria e trentadue piccole bianche cose come d'avorio che si sparpagliarono qua e là per il pavimento che si sparpagliarono